Ciao a tutti e benvenuti a Do It Yourself Ispirazione. Oggi prepariamo degli olcetti per Pasqua, è sempre Pasqua, quindi dei cupcakes con i lieti pasquali, perché vedete che hanno le orecchiette. E adesso vi mostro di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di 60 g di burro, 60 ml di olio, 100 g di zucchero, 2 uova, una bustina di lievito, mezza bustina di soda, un pizzico di sale, 275 g di farina e 250 ml di latte. Iniziamo subito mescolando lo zucchero, il burro e l'olio. Aggiungo le due uova e ora aggiungo il pizzico di sale, la soda e la farina. E ovviamente anche il lievito, scusate. E al tutto mescolo un po' di latte. Ok, ora il mio fondo è pronto e lo vado a mettere nei miei porta-cupcakes a forma di cuoricino. Ok, ora sono pronti, li andrò a mettere in forno a 18-20 minuti per 180 gradi. Ora per la parte superiore ho qui 500 ml di panna montata addolcita con un po' di zucchero, color anti-alimentare che aggiungo alla mia panna montata, marshmallows, circa 12 pezzi, che andranno a formare le orecchie, e praline rosa che andranno a formare sempre le mie orecchie. Ora prendo le forbici per tagliare i miei marshmallows per farle assomigliare alle rocchiette di coniglio. Quindi parto e cerco di dare la forma proprio dell'orecchio. Vedete che in mezzo, non so se vedete bene, ma è un po' piegato. Quindi la parte superiore dovrà essere più appuntita, mentre la parte inferiore dovrà essere più largina, proprio come le orecchie dei coniglietti. Ora vado a riempire la parte interna di praline rosa. E vado a formare circa 24 orecchie, perché sono due per muffin. Ecco qui, ora procediamo. Panna montata colorata. E le orecchie dei miei coniglietti pasquali. Eccoci qui, i nostri cupcake pasquali sono pronti, assomigliano proprio a un conigliecio, con queste orecchie bellissime. Faranno impazzire i vostri bimbi e sono veramente, veramente buoni. Quindi createli e ditemi cosa ne pensate nei commenti. Se avete qualche altra idea, fatecela sempre sapere. Restate aggiornati con i nostri video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!